Se ti fa conoscere troppo, puoi sanno perfettamente come ferirti. Oggi ho letto queste frasi, ed è così reale, è meglio andarsene e far sentire la propria mancanza, piuttosto che rimanere e non significare nulla. La umiltà non ti fa migliore delle altre, ma ti rende diverso da molti. La gente vive di cattiveria, soffre di invidia e sputa veleno. La mancanza di comunicazione rovina tutto perché, invece di sapere come si sente l'altra persona, lo presumiamo e basta. Non aspettare, non sarà mai il momento giusto. Ricorda, le persone forti non sono quelli che vincono sempre, ma sono quelli che non mollano mai. La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. Grazie mille per restare con Just Funny World. Grazie. 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 Grazie.